Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi andremo a fare ragazzi le dottoresse sexy Quindi per così di fare questo glitch è semplicemente avere i due outfit da paramedico Questi blu con la cintura e con lo stetoscopio ragazzi Link in descrizione del video per prendere questi outfit Quindi una volta che avete preso questi outfit ragazzi non dovremo fare niente di speciale Andiamo direttamente dal negozio di vestiti, interagiamo con i vestiti raga E qualsiasi vestito andremo a mettere rimarrà il beige ragazzi E potremo fare raga la dottoressa sexy Adesso vi faccio vedere un altro stile di dottoressa magari meno sexy e un po' più elegante diciamo Un po' più serio Poi vi faccio vedere l'altro ragazzi con il vestitino che è veramente secondo me una bomba con lo stetoscopio Quindi guardate che carino alla fine una volta che ci ho messo tutte le varie cavolatine raga E invece adesso andiamo a farlo con lo stetoscopio raga E secondo me col vestitino è una bomba Quindi andiamo direttamente dai vestiti e andiamo a cercarci i vestitini ragazzi Quelli corti E una volta che siamo sui vestitini andiamo a metterci quello blu scuro Che proprio è la stessa tonalità raga del paramedico Sembra fatto apposta cavolo Ed è veramente una figata Un outfit semplicissimo e carinissimo Un po' più riuscire fuori dagli schemi E non fare sempre le solite cose mod raga Quindi lasciate un like Lasciate un commento Ditemi cosa ne pensate di questo video ragazzi Che secondo me è veramente interessante Adesso ci andiamo a mettere un po' di tacchetti raga Ci mettiamo un bracciale E mi raccomando visto che stiamo facendo la dottoressa sexy Non ci dobbiamo fare mancare i guanti da dottoressa Quindi ragazzi lasciate un like Lasciate un commento Iscrivetevi se non siete iscritti Abbonatevi se volete supportarmi alla grandissima E alla prossima Bella raga Sbada Abbonatevi